Ormai è tutto pronto, ancora un paio di giorni dopo di che Zlatan Ibrahimovic sarà un nuovo giocatore del Milan. L'ufficialità del suo trasferimento è ormai acqua passata, oggi lo sguardo si sposta sul contratto. Iniziamo però con ordine, venerdì 3 gennaio lo svedese verrà presentato in conferenza stampa, tornerà a Milanello dopo sette anni dall'ultima volta, intanto però filtrano indiscrezioni sul contratto che lo legherà i rossoneri. Ibra guadagnerà 3 milioni e mezzo di euro a stagione fino al prossimo giugno, più 500 mila euro in caso di qualificazione alle coppe europee, bisognerà però capire se il bonus è il medesimo per Champions o Europa League. Se lo svedese riuscirà a giocare il 50% delle partite in programma, il rinnovo di contratto sarà automatico fino al 30 giugno 2021. L'eventuale nuovo contratto gli permetterebbe di guadagnare 6 milioni di euronetti più bonus a stagione. Un estratto delle parole del tecnico del Brescia Eugenio Corini al termine del match contro la formazione di Serie D tra Stevere. Test che certificava il lavoro fatto in questi giorni a Roma, che è stato fatto molto bene, con grande impegno da parte di tutti, avevamo cariche importanti ma nonostante questo i ragazzi hanno lavorato bene, con grande intensità, lucidità, abbiamo provato a fare le nostre cose e dunque sono molto soddisfatto. Poi la Serie A è molto competitiva, si affrontano squadre blasonate che hanno un percorso diverso dal nostro, noi siamo la neopromossa, il Brescia tra l'altro mancava da 8 anni in Serie A e di conseguenza abbiamo tanti esordienti che stanno crescendo, che stanno acquisendo sempre più esperienze in categoria e consapevolezza e dunque questo è quello che vogliamo portare nelle 21 partite che rimarranno, che ci dovranno portare poi a raggiungere il nostro obiettivo che è quello della salvezza. Karim Benzema sembra essere destinato a rimanere nel Real Madrid. Il club iberico infatti non vuole perdere l'attaccante che a sua volta sembra deciso a rimanere in Spagna. Le due parti potrebbero presto arrivare ad un'intesa per il rinnovo del contratto del calciatore in scadenza nel 2021. Secondo il quotidiano Haas, la società madrilena vorrebbe allungare l'accordo per una o due stagioni offrendo al giocatore la possibilità di chiudere la carriera con la camisetta blanca, che indossa ormai dal 2009. Il futuro di Benzema, quindi, sembra essere spagnolo, in barba ai diversi club francesi come Paris Saint Germain e Lyon, che lo vorrebbero riportare in patria. Soldi, soldi e ancora soldi. Ogni anno sono molti i capitali che i team di Formula 1 investono per competere sull'arco di un'intera stagione. Ma quanto valgono le scuderie del circus più famoso del mondo? A stilare la classifica ci ha pensato Forbes, secondo cui al primo posto c'è la Ferrari con un valore di 1,35 miliardi di dollari e 426 milioni di ricavi. Alle spalle del cavallino la Mercedes, valutata poco più di un miliardo, con una crescita spaventosa del 46%. Sull'ultimo gradino del podio troviamo la Red Bull, valore 640 milioni di dollari e ricavi che si attestano a 327. Dietro al team austriaco c'è invece la McLaren, che quest'anno è riuscita a tornare sul podio con Carlos Sainz dopo anni di digiuno. 430 milioni è questa invece la valutazione della Renault di Daniel Ricciardo, davanti ai 400 milioni della Williams. Chiudono la top 10, la Toro Rosso, 200 milioni, Racing Point, 130, Haas con 115 e Alfa Romeo con 105. Grazie a tutti.